Il dottor Giuseppe Macchione, noto come Pino, un medico di famiglia infettivologo destinato alla pensione, è stato colpito da un infarto fulminante nel suo studio nel quartiere San Paolo a Bari. La tragedia è avvenuta il 18 dicembre mentre lo studio era vuoto. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei colleghi non è stato possibile salvargli la vita. Macchione che avrebbe compiuto 70 anni a maggio ha svolto un ruolo significativo come punto di riferimento per la comunità, lavorando come medico di medicina generale e contribuendo alla fondazione di una struttura innovativa nel quartiere San Paolo nel 2010. Oltre alla sua attività clinica si è dedicato come volontario nei consultori sensibilizzando sull'importanza della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per tutta la comunità locale. Grazie a tutti!